Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, a Villino. Un detenuto del carcere di Ariano Irpino ha aggredito uno psichiatra durante una visita, lo rende noto l'USP, l'Unione dei Sindacati di Polizia Penitenziaria. Si è reso necessario l'intervento del 118. Il sindacato ha indetto lo stato di agitazione per la grave carenza di organico e di risorse dell'area sanitaria, con particolare riferimento ai detenuti con problematiche psichiatriche, dove è necessario l'invio urgente di operatori specializzati per garantire un'adeguata gestione terapeutica. Sono comunque troppi, sottolinea Ciro Auricchio, segretario regionale dell'USP, i detenuti affetti da patologie psichiatriche ristretti negli istituti penitenziari campani e pochi sono gli strumenti di sostegno. Per Auricchio è necessario aprire nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza sul territorio di Napoli, per decongestionare le sezioni psichiatriche degli istituti di pena.